Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Mulas, l'imprenditore cagliaritano ritrovato senza vita domenica scorsa sul piazzale antistante lo stabile in cui aveva la sua attività commerciale e dove a volte si fermava a dormire in un appartamento al primo piano. Due persone, un uomo di 46 anni e una donna di 39, senza fissa dimora, sono stati arrestati con l'accusa di rapina e morte come conseguenza di altro reato. Mulas, 75 anni, ben portati, quattro figli e diversi nipoti, era molto conosciuto e stimato da tutti. Abbiamo trovato poggiato a terra lì. Il corpo era inchinato sulla destra, così. Non penso che stesse pulendo il vetro delle finestre. Mai si sarebbe potuto suicidare, perché è una persona serenissima. L'autopsia ha evidenziato diverse fratture sul corpo e alla testa compatibili con una caduta dall'alto, presumibilmente da una finestra situata a 6 metri di altezza. In un primo momento si era pensato a un gesto estremo, ma la mancanza dei portafogli, del cellulare e di alcuni oggetti personali dell'imprenditore ha indirizzato le indagini diversamente. Inoltre, la porta del suo appartamento è stata chiusa a chiave dall'esterno. Potrebbe essere stato aggredito. Magari qualcuno è entrato lì e era già dentro. L'ipotesi della squadra mobile è che Mulas sia stato rapinato nella sua casa nella serata di sabato. Ma il mistero resta come la coppia arrestata sia riuscita ad entrare, se furtivamente o se i due rapinatori fossero una conoscenza pregressa della vittima o ancora se si sono introdotti in casa con una scusa. I due lo avrebbero rapinato, sottraendogli il cellulare per impedirgli di chiedere aiuto e poi lo avrebbero chiuso in una stanza dove la vittima si sarebbe calata dalla finestra, cadendo sul secciato di cemento e morendo sul colpo dopo aver sbattuto la testa. I due rapinatori sarebbero poi fuggiti con un furgone rubato nel piazzale e ritrovato abbandonato nel quartiere Sant'Elia a Cagliari. Il DNA repertato sul mezzo e su altri oggetti analizzati in casa dell'imprenditore ha incastrato i due indagati.